Ciao, volevo dirti grazie per avermi insegnato che ci sono così tanti modi di morire. Adesso però spostati, che mi fai ombra alla mia rinascita. Il coronavirus non ha risparmiato la chiusura di bar e ristoranti, tra i primi a chiudere e tra gli ultimi a ripartire. Sabato scorso il mondo della ristorazione della provincia di Pesero Urbino è sceso in piazza 20 Settembre a Fano per chiedere al governo, regione Marche e comuni un sostegno economico concreto e immediato per evitare il fallimento. Riacquistare la fiducia dei turisti e puntare sul Made in Italy, evitare la burocrazia e rimanere uniti in questa lunga battaglia ancora da vincere. Dopo l'inno di Mameli si sono alternati rappresentanti politici locali e regionali, poi la testimonianza di baristi e ristoratori che hanno aderito alla protesta pacifica organizzata dal movimento apolitico Ristor Italia. In qualche modo, trovandoci con queste ristrettezze, chiaramente ci mettono fortemente in difficoltà tutto il settore, dai bar, sicuramente ai ristoranti e quant'altro. Qualcuno probabilmente proverà a riaprire, però sicuramente la stragrande maggioranza per il momento ancora vorrà vedere un pochettino come si evolve la situazione, ma sicuramente molti non riapriranno. E sono tanti, infatti, coloro che oggi non hanno alzato alla saracinesca. Tra le preoccupazioni, oltre a quella economica, rientrano le sanzioni civili, penali e amministrative che rischiano gli imprenditori. Per ora niente, per lunedì 18 non apriamo. Non so se apriremo per il weekend di venerdì, sabato e domenico, oppure faremo quest'altro. Intanto abbiamo iniziato a sanificare il locale, tutto quanto posato e tutto quanto... Pannelli? Non voglio che sia uno studio medico il mio, cioè deve essere un ristorante, pizzeria dove la gente può stare tranquilla. Michele, voi riaprirete? La riapertura in queste condizioni, senza un protocollo preciso, senza una regola precisa, sarebbe solo un suicidio professionale. Avremo il primo sceriffo di turno che ci passa davanti il locale, avrà l'appiglio giusto per farci il primo verbale della stagione, si può dire perché. Effettivamente abbiamo chiuso il 9 di marzo, ancora dobbiamo ricominciare e noi in questa situazione non riapriamo, non abbiamo le forze per riaprire, non abbiamo la liquidità per riaprire. Perciò noi attendiamo che il governo ci dia delle misure precise, degli aiuti concreti. Ad oggi non abbiamo avuto niente, i famosi 25 mila non mi sono arrivati, la cassa integrazione del mio dipendente ancora non è arrivata e il mio dipendente a tutt'oggi ancora deve avere lo stipendio. Io purtroppo non ho potuto anticiparlo. Altri imprenditori invece hanno deciso di riaprire l'attività, come Raffaele Papi, titolare di un bar a Pianello di Cagli. Sì, abbiamo deciso di riaprire l'attività perché siamo in un piccolo paese e il piccolo paese ha bisogno di un punto d'incontro. E quindi i bar solitamente da noi sono dei punti d'incontro di tutta la popolazione, quindi è quel momento dove ti scambi la chiacchierata dopo il lavoro e anche durante la giornata. Se devo pensare oggi come oggi per un fatto economico, no, lo faccio solo per la gente del mio paese che comunque aspetta la riapertura del bar per dei momenti conviviali. Significative poi le parole dello chef Lucio Pompili. I portafogli sono vuoti, ha detto, sarà facile una disobbedienza fiscale. La speranza però è l'ultima a morire, come dimostrato dal gesto simbolico che ha concluso l'iniziativa. Candele accese e il tricolore sul campanile della piazza. Sicuramente fino a settembre 2021 faremo questo stop and go senza quelle che sono le coperture di liquidità che sono necessarie e per i nostri dipendenti e per le nostre strutture. Non chiediamo la luna, chiediamo il valore di un mese di chiusura che è l'equivalente di un anno di lavoro. Tre mesi di chiusura vuol dire che i prossimi tre anni noi schiatteremo di fatica, ci indebiteremo e non riusciremo sicuramente a trovare luce. Anche se la luce è dentro una stanza buia e noi proveremo a riaccenderlo a questo interruttore. Però abbiamo bisogno di una mano. Grazie a tutti.